Ciao ragazzi, ecco a voi un nuovo video che non è tutto a fare nel mio sacco, ma è in collaborazione con il CIR, l'Abitologico Romano, l'IC, Associazione Italiana Ciclidofili, e soprattutto con l'amico, esperto di Ramirezzi, Andrea Vanini, un biologo con la passione di questi magnifici pesci, che ci farà scoprire in oltre un'ora e mezza di relazione e di documentario la vita segreta di questi pesci. Quindi con un approccio molto wide, molto alla ricerca di quelle che sono le prerogative principali della loro biologia in natura, in modo da essere traslate e interpretate anche all'interno dei nostri acquari. Quindi ringrazio ancora Andrea Vanini, ringrazio il CIR che mi ha dato questa possibilità, oltre che chiaramente all'Associazione Italiana Ciclidofili, che ha fatto in collaborazione con il CIR tutta una serie di serate inerenti al mondo dell'acquariologia in generale. Detto ciò, mi raccomando, sosteniamo le associazioni, iscriviamoci al CIR, iscriviamoci all'IC, ma soprattutto non dimenticate di mettere like e iscriversi al canale, perché, come dico sempre, qui ne vedremo sempre delle belle. Ma soprattutto video di alto livello, da fonti attendibili, selezionate apposta per gli utenti del canale. Ed ora andiamo ad ascoltare cosa ci racconta Andrea sulla vita misteriosa dei Ramirezzi. Direi di iniziare la serata, diamo il benvenuto a Andrea Vanini, che è il relatore di questa serata. Ciao Andrea. Andrea Vanini è acquariofilo e biologo, quindi chi meglio di lui potrebbe aiutarci nella relazione di questa serata. È un libero professionista, come diceva, è un biologo specializzato in ecologia, lui è un biologo ambientale, ha un passato e un presente come libero professionista, è acquariofilo da oltre 25-26 anni, anche se giovane, è acquariofilo con una grande esperienza, dal 94. Nel recente passato ha anche svolto attività di collaboratore consulente per aziende del settore acquariofilo, in particolare lui si occupava della sezione manginistica, giusto Andrea? Sì, esatto, della nutrizione dei pesci e degli animali acquatici. Perfetto, allora io direi, ti cederei la parola e questa serata sarà incentrata su uno dei cicli di più amati dagli acquariofili, il microgeofalo sarà Mirezzi, quindi siamo in fermente attesa alla tua presentazione. Grazie Andrea, vai. Grazie a voi. Scusa, ultima cosa, invito tutti i partecipanti a togliersi video e audio, non lasciamo solo Andrea e eventuali interventi si possono fare senza grandi problemi. Grazie, vai Andrea. Sì, allora, intanto voglio ringraziare il CIR e l'Associazione Italiana Ciclidofili per avermi dato la possibilità di organizzare questa serata e di parlare, quindi insomma vi ringrazio tutti. Per il RAM, per il microgeofalo Agustino Mirezzi, ho una grande passione da alcuni anni, li ho anche allevati e diciamo sfruttando anche un po' le mie conoscenze di biologo, le mie esperienze anche professionali, ho fatto un percorso diciamo di approfondimento sugli studi che sono stati fatti a livello scientifico su questo pesce, scoprendo che una volta confrontato quello che si sa a livello scientifico con quello che poi si fa nella pratica acquariofila, molte cose non tornano, per cui nonostante questo pesce sia diffusissimo, perché penso non esista un negozio di acquari che non ce l'abbia sempre nella sua disponibilità e tantissimi acquariofili nel loro percorso hobbistico l'hanno sicuramente allevato, è molto noto ma forse non è molto conosciuto per quanto riguarda le sue esigenze e quindi stasera, così con molta pacatezza e con molta divulgazione, vorrei farvi un po' vedere quali sono le caratteristiche salienti di questa specie per poterla poi allevare in modo ottimale in acquario. Intanto c'è una lunga storia, scusate non mi va la presentazione, come mai? Ecco, ok, Andrea mi ha già introdotto quindi evito di ripresentarmi, comunque sono un biologo. Intanto volevo iniziare con il nome, cioè il pesce è il microgeofa Custinamirezzi, con la K, ok, micro, è un pesce della famiglia dei ciclidi, sotto famiglia cicline e tribù geofagini. Il fatto che sia della tribù geofagini è molto importante da tenere in considerazione perché i ciclidi di questa tribù si nutrono sul fondo, in un modo particolare che vedremo dopo. Infatti il nome microgeofagus vuol dire proprio piccolo geofagus e Ramirezzi perché è intitolato al signor Ramirezz come omaggio, dopo si vedrà anche chi è il signor Ramirezz. Il nome comune da noi è Ram, però in America e nei paesi anglofoni lo chiamano anche Butterfly Ciclid o Blue German Ram, sia sulle riviste che sui siti specializzati. La scoperta non è antica perché comunque è una settantina d'anni che è conosciuto alla scienza questo pesciolino, qui vediamo una foto di un esemplare presumibilmente selvatico. È stato scoperto nel 1947 da questo Herman Blass, che dovrebbe essere un esportatore di pesci operativo in Sud America, assieme appunto al signor Ramirezz, Manuel Vicente Ramirezz, che era appunto un allevatore locale. Loro furbescamente non dissero esattamente la locality perché chiaramente c'era il presupposto di sfruttare la specie a livello commerciale, però comunque indicarono un areale compreso tra il rio Apuree e il rio Meta nella zona venezuelana di Apuree, quindi praticamente una zona del bacino idrografico dell'Orinoco, in modo molto vago, non fu specificato esattamente. E questo probabilmente, queste sono foto di ora di Micolgi, ma Micolgi sono foto famose che girano sul web, è come doveva apparire ai loro occhi il Ramirezzi in natura. A sinistra vedete una femmina e a destra vedete un maschio. Ed è un pesce molto piccolo, cioè in natura raramente supera i 4,5 cm di lunghezza totale, ed è riproduttivo molto prima, cioè è riproduttivo già a 3,5 cm. Quindi è a tutti gli effetti un ciclide nano di nome di fatto. Il nome è molto particolare perché inizialmente fu inserito con gli apistogramma, cioè fu inserito nel genere apistogramma da Myers e Henry, che sono i primi descrittori della specie nel 1948, i teologi statunitensi. Però già da subito ci furono delle perplessità, perché il genere apistogramma è un riproduttore in cavità, principalmente, mentre il Ramirezzi fu osservato che si riproduce preferibilmente su substrati esposti. Quindi sembrava strano che un'unica specie in tutto il genere apistogramma deponesse in luoghi così esposti. Successivamente, proprio per questo, un altro autore che è Frey, intorno alla fine degli anni 50, in questo libro tedesco, TAS Aquarium from Abyss Zeta, e lo ripropose come microgeofagus Ramirezzi con la C, basandosi su differenze morfologiche e di colorazione. Guardate sotto qui c'è un apistogramma, sopra c'è un microgeofagus Ramirezzi, le differenze morfologiche sono abbastanza evidenti. e quindi Hans Frey propose, senza voler essere un nuovo nome scientifico, però propose come eventuale sostituto microgeofagus. Anche basandosi su queste differenze, guardate, al centro vedete le principali caratteristiche del Ram. È monogamo, effetto a cure biparentali, e depone su substrati esposti. E la colorazione è sempre brillante a spot, con spot neri laterali. Inoltre ci sono poche differenze tra maschio e femmina nella colorazione. Al contrario, il genere apistogramma, no vera pesci, con una grande differenza di dimensione e di colorazione tra maschio e femmina. Qui sotto vedete, ad esempio, l'apistogramma Cacatuoides, ok, a sinistra il maschio, a destra la femmina. I colori sono molto meno brillanti, più mimetici, ed è quasi sempre presente anche questa banda laterale sui fianchi, che il Ram invece non presenta. Basandosi un po' su queste differenze, Kullander, che praticamente è uno dei più famosi esperti zoologi di cicli di europei, è svedese, e alla fine degli anni 70, qui lo vediamo infatti giovane, capellone negli anni 70, propose un nuovo genere, Papiliochromis, va bene, prendendo a spunto il nome comune, Butterfly Ciclid, e lo redescrisse come Papiliochromis Ramirezzi, impostando anche una parentela con il genere Geophagus e il genere Biotodoma, va bene, facendo sue le caratteristiche evidenziate da Frey, però ritenendo che non si potesse accettare Microgeophagus come nome, e ne propose uno tutto suo. E per tanti anni è stato così, io ho delle riviste degli anni 90, appunto, di quando ho cominciato con l'acquariofilia, dove il Ram viene proprio chiamato Papiliochromis Ramirezzi. In realtà poi dopo, qui lo vediamo invecchiato, Kullander, va bene, negli anni successivi ci fu un po' di diatriba, perché non tutti accettarono questo nome Papiliochromis, istituito un po' arbitrariamente da Kullander, e dissero, no, forse è meglio continuare a utilizzare Microgeophagus. E tra questi fautori di Microgeophagus c'erano due importanti etiologi europei, Geri e Isbrucker, che però a livello accademico e anche, credo, personale, erano un po' nemici di Kullander, quindi ci fu tutta una diatriba scientifica che ora vi risparmio i suoi dettagli, però alla fine Kullander, per fare contenti un po' tutti, tirò fuori questo libro degli anni 70, fino agli anni 60, Jeg Har Aquarium, un libro danese, dove c'era scritto Microgeophagus con la K, ok, e nel 2011 disse, va bene, lo chiamiamo Microgeophagus Ramirezzi con la K, è un po' una questione di lana caprina, perché lì c'era scritto Microgeophagus con la K, perché gli autori, essendo danesi, avevano sbagliato a tradurre dal latino, quindi non è che in realtà loro avrebbero scritto Microgeophagus con la C, però Kullander, Puddy non fa contento, Geri e Isbrucker tirò fuori questa storia della K, quindi oggi si chiama Microgeophagus, Meulen, Grakt e Madsen sono gli autori di questo libro danese, Ramirezzi. Fatta questa premessa, allora, dov'è che si trova i Ramirezzi in natura? Principalmente tra Venezuela e Colombia, in questa regione, evidenziata qui di viola, che sono gli Iglianos, ok, è una specie endemica dell'Iglianos dell'Orinoco, e qui a destra vedete una cartina più dettagliata, ok, l'Iglianos sono questa regione grigio chiara nel mezzo, ok, dove ci sono grossi fiumi come il rio Apuree, il rio Meta ed altri, anche il rio Inidida, Mentre in sponda idrografica a destra dell'Orinoco, c'è questa regione in grigio chiaro che non fa parte dell'Iglianos, quindi la distribuzione segue questo arco tra Colombia e Venezuela. E' un bacino molto grande, 950.000 km2. E' interessante questa distinzione perché sulla sponda idrografica a sinistra dell'Orinoco, quindi l'Iglianos, le acque dei fiumi sono quasi tutte acque bianche, quindi a conducibilità medio-alta e torbide. E' così il rio Apuree, e' così anche il rio Meta, perché, diciamo, drenano dalle ande e quindi trasportano molti sedimenti. Nella sponda idrografica destra, che in questo caso a noi non interessa, però era bellino parlarne, le acque invece sono nere e a bassissima conducibilità e molto limpide. Questo perché geologicamente il rio Caura, qua sotto c'è anche il rio Tabapo da qualche parte, scorrono su una differente zona geologica che è questo scudo preambriano della Guiana, che è uno scudo fatto di basalto, quindi essendo basalto non cede minerali all'acqua e quindi l'acqua lì è a bassissima conducibilità. Mentre nell'Ianos, in genere, è ricca di sedimento e anche abbastanza ricca di minerali. E quindi uno qui si potrebbe fare una domanda, cioè il ram, si dice sempre, ciclide di acqua è molto acide, tenere, a bassissima conducibilità, o come mai se questa zona al contrario è principalmente inondata da acque torbide, ora lo vedremo, perché sono micro habitat molto particolari. Questi sono gli Ianos in generale, sono delle savane allagate, non sempre, con una ben precisa sequenza stagionale. Cioè c'è una stagione secca, invernale, da gennaio a maggio, dove praticamente sono delle praterie erbose, e una stagione piovosa, da fine maggio a settembre, dove invece si allaga tutto per via delle forti piogge, ci sono i corsi d'acqua che tendono a esondare e quindi si formano queste grosse pianure allagate, paludose, piene di vita, di uccelli, di piante, qui ci sono capibara, che sono tipici roditori del Sud America, e via dicendo. E qui potete vedere queste immagini giusto per vedere le variazioni stagionali, cioè da zona di prateria a zona inondata, piena di uccelli acquatici, animali acquatici, piante e via dicendo. Con acqua generalmente anche abbastanza bassa, perché la profondità media nella zona allagata raramente supera il metro, metro e mezzo. Ed è tutto dominato da queste tre piante, si conoscono, le prime due le conosciamo anche noi acquariofili, perché sono le icornia, i giacinti d'acqua, la specie Crassipes e la specie Azzurea. Però c'è anche questa graminacea, il Paspalum repens, che è una specie di graminione, per capirsi, che quando si allaga, la prateria comincia a crescere, crescere, galleggia e poi esce fuori dall'acqua e forma questi prati umidi in mezzo alla savana. Questo per dirvi che in realtà è un ambiente più comune di quanto sembri, anche in altre latitudini, perché questa per esempio è una foto fatta da me a Firenze, a figli di Nevaldarno, e praticamente l'ambiente è simile. Ora, noi non abbiamo l'Igianos, però anche da noi, se l'uomo non ci mettesse lo zampino, avremo queste aree di esondazione, di fiumi e di laghi e stagni, che sono dei prati allagati con le graminacee emergenti. Questo ovviamente non è il Paspalum repens, è un'altra specie, però comunque l'assetto morfologico è molto simile. E qui nel mezzo, dove io sto indicando con la freccia, questi sono pesci, quindi praticamente pesci usciti dal fiume per entrare nella palude e poi probabilmente torneranno indietro quando le acque si ritireranno. è la stessa cosa che fanno gli animali nelle Igianos. Vi dicevo prima del micro habitat particolare del ram, perché il ram non è che è distribuito su tutti gli Igianos a caso, tende ad essere più comune in questi sotto habitat che si chiamano moriciales, che sono proprio degli stagni, anche di notevole estensione, ma sempre molto bassi, a livello di colonna d'acqua, pieni di piante, dominate da piante e da una ricca biodiversità vegetale. In particolare sono dominate da delle palme, la palma moricia e la palma moriscito, che crescono proprio con le radici nell'acqua e fanno cadere le loro foglie morte nell'acqua stessa, provocando una tannizzazione, cioè l'acqua tende ad essere scura, ambrata. Inoltre l'acqua è molto tenera, perché questi moriciales all'interno del sistema dell'Igianos sono alimentati nella stagione piovosa dall'acqua di pioggia, quindi acqua molto tenera, e nella stagione secca da essorgenti sotterranei, che però scorrendo su terreni molto poveri, lo vedremo dopo, non arricchiscono tanto l'acqua di nutrienti, quindi sono acque limpide, ambrate, praticamente stagnanti, perché hanno una corrente lentissima, e poco profonde. La profondità media massima è circa un metro, e a livello di struttura dell'habitat potete vedere come sia piena di detrito vegetale, tronchetti, rami, foglie, piante vive, tutto insieme a formare un ambiente molto complicato, ricco di ripari, barriere visive, nascondigli, eccetera. Vi dicevo prima che il terreno è costituito da queste argille rosse poverissime di nutrienti, e anche a reazione acida, quindi è per questo motivo che, nonostante i grossi fiumi dell'Igianos siano ad acque bianche, questi micro-habitat tendano ad essere molto acidi, e a conducibilità molto bassa, nella stragrande maggioranza dell'anno, fatta eccezione proprio quando ci sono le grandi esondazioni dei fiumi, che sono probabilmente occasionali durante l'anno. Io vi ho preso, per vedere un po' le temperature del biotopo, San Fernando de Apuret, che è una cittadina praticamente nel mezzo dell'Igianos, e quindi vedete proprio la differenza stagionale, che è abbastanza marcata a livello di temperatura, perché abbiamo una stagione secca, calda, da febbraio a aprile, dove la temperatura media è 30 gradi, quella dell'aria, e una stagione leggermente più fresca, tra giugno, luglio e agosto, dove le temperature medie sono intorno a 26-27 gradi, ma possono scendere anche a 22-23 gradi. Quindi c'è proprio una stagionalità, sembra quasi un clima monsonico, cioè un periodo molto caldo e secco, e un periodo un po' più fresco e più piovoso. Infatti la piovosità segue le variazioni di temperatura, qui si vede bene che i mesi più piovosi in Venezuela sono giugno, luglio e agosto, dove piove veramente tanto, e i mesi più secchi sono quelli che corrispondono al nostro inverno, cioè dicembre, gennaio, febbraio e marzo, dove piove pochissimo e fa molto caldo. Quindi c'è proprio un'escursione anche del livello idrico importante tra la stagione secca e la stagione piovosa. E qui è schematizzato quello che vi ho già detto, come vedete, le fasi sono sempre regolari, cioè una cosa bella di questo bacino dell'Orinoco all'altezza dell'Igianos è che non è tanto impattato dalle attività umane, per cui i regimi idrologici sono quasi identici a quelli naturali prima della scoperta dell'America. Quindi si ha sempre una stagione secca dove gli invasi sono molto bassi, il 50% della capacità massima. Una fase torbida che è l'unico momento in cui l'acqua non è trasparente a causa della forte pioggia di inizio stagione secca e anche dell'eventuale esondazione dei fiumi a acque bianche che danno quel minimo di azote e fosforo che innesca poi la crescita delle macrofite. Qui vedete il paspalum che sta crescendo. Non appena comincia a crescere il paspalum l'acqua comincia a schiarirsi e si sviluppa al plankton. Quindi la fine della stagione secca, all'inizio della stagione piovosa, è il boom del plankton e in genere coincide con il boom della riproduzione dei pesci, tra cui vedremo anche il ram. Poi cosa succede? Tutto quel detrito vegetale delle palme e delle altre piante terrestri che abbiamo visto prima comincia a cedere tannini, comincia a cedere acidi umici e l'acqua tende a diventare ancora più acida e ambrata. Dopodiché c'è una fase di ristagno in cui questi bacini persistono per qualche mese e poi ricominciano a seccarsi. Quindi c'è questa alternanza stagionale molto marcata. Non si prosciugano mai completamente ma hanno delle escursioni di livello veramente importanti. E cosa mangiano i pesci in queste paludine allagate? Principalmente due cose. Il perifito, che è questa patina algale che vedete qui a sinistra in mezzo all'erba formata da batteri, alghe, cianobatteri, eccetera e microorganismi che ci crescono in mezzo e invertebrati, micro e macro invertebrati quindi larve di insetto, piccoli crostacei, molluschi, vermi e quant'altro. Insomma diciamo un'alimentazione abbastanza piccola ovviamente nei bacini più grandi ci sono anche dei predatori più grossi che si nutrono di vertebrati quindi o di altri pesci o di piccoli mammiferi, eccetera. Nel nostro caso i nostri ciclidi della tribù dei geofagini mangiano in questo modo con questa tecnica, con questo comportamento chiamato winnowing, una vagliatura cioè mettono la testa, proprio letteralmente la parte anteriore della testa, nel substrato che in genere è molto fine e inconsistente inghiottano bocconi di substrato lo vagliano in bocca e trattengono il commestibile ed espellono dalla bocca o dalle branche l'incommestibile questo aiutati dal fatto che i ciclidi hanno un doppio set di mascelle quelle orali che sono in rosa nella figurina ma anche delle mascelle faringe che sono quelle rosse che utilizzano proprio per setacciare meglio questa boccata di substrato e trattenere le prede o il detrito commestibile ora pregherei a Andrea di far partire il primo filmato così vediamo in diretta il comportamento alimentare di questi ciclidi ecco che lo faccio partire un secondo solo si vede? si, si, io lo vedo ok, allora in questo filmato questo l'ho fatto io a casa mia non vedete il ram perché non mi è riuscito a filmare il ram durante questo comportamento vedete la specie sorella che è il ram boliviano cioè il microgeofagus altispinosus che è un pesce un po' più grosso che viene da tutt'altra zona ma che ha lo stesso comportamento alimentare quindi voi vedete il pesce che ora appena smette di inseguire gli altri sembra che biascichi letteralmente che rimangiucchi qualcosa che ha in bocca ecco sta filtrando sostanzialmente una boccata di sedimento io gli avevo messo dei chironomus vivi presi in natura avvolti in quel bozzolo lì di sedimento quindi lui sta proprio vagliando e lo fa anche per diversi secondi se non minuti ad ogni boccone quello che ha in bocca quindi loro si alimentano continuativamente in questo modo cioè inghiottendo e setacciando sputando poi reinghiottendo setacciando e sputando tra pochino verso la fine del filmato vedremo anche proprio il pesce che sputa una larva di chironomus che ha estratto dal suo bozzolo e poi se la rimangia quindi questo è proprio il tipico comportamento quotidiano di un microgeofagus a prescindere dalla specie nel suo eccola lì e ora se la rimangio ecco quindi questo diciamo è il comportamento del dram se torno alla diapositiva posso tornare io Andrea o devi rimetterlo tu sì sì vai faccio stop sherry adesso puoi andare tu ok se io torno alla mia diapositiva potete vedere scusate torno indietro va bene qui scusate se torniamo alle mie diapositive vi dico che il livello di profondità massimo in cui il ram infila la sua testa per setacciare è poco cioè non è più profondo di un centimetro ma in genere è molto meno quindi lo prendiamo come un geofagino epibentonico non infila la testa molto in profondità come può essere invece fatto da un geofagus in questo studio che secondo me è molto interessante ci fa vedere come e cosa mangia il microgeofagus e la mirezza in natura se vedete il 60% circa della dieta sono invertebrati bentonici il 40% circa sono gli epibentonici io ho arrotondato però quello che resta è detrito vegetale quindi è un micropredatore bentonico epibentonico quindi mangia sul fondo però ha un minimo una piccola percentuale di vegetali nella sua dieta al contrario per esempio del dicrossus filamentosus che è una specie sintopica nei moriciales dove la dieta è esclusivamente cardibora e gli apistogramma addirittura sono ancora perlomeno apistogramma ogni è ancora più vegetariano non mi scorgono le diapositive non so perché pronto? sì ci sei sì ci sono ma non mi scorgono le diapositive eccoci ok ora ci sono scusate probabilmente la connessione sarà rallentata e quali sono le tipologie di prede principali in natura? queste invertebrate appunto bentonici e epibentonici qui vi ho messo delle immagini di esempio ok copepodi larve piccoli crostaci vermi piccoli molluschi e ovviamente anche alghe filamentose e diatomee che vanno a comprendere quel 3,8% della dieta vegetale che abbiamo visto nella diapositiva precedente in realtà studi ancora più approfonditi hanno dimostrato che il ram mangia roba veramente piccola cioè fa proprio onore al suo nome micro geofagus perché si nutre principalmente di rotiferi cladoceri e rizopodi che sono un plankton veramente piccolo a volte non si vede nemmeno occhio nudo quindi è roba veramente veramente piccola che lui continuativamente spelluzzica 12 ore al giorno tra le piante e nel detrito vegetale del suo biotopo messa così sembrerebbe un pesce molto complicato ok mangia roba piccina vive in questi ambienti particolarissimi in realtà è una specie anche adattabile perché dove l'uomo lo ha traslocato si è adattato benissimo qui per esempio vedete che nel Minas Gerais in Brasile è stato liberato dagli acquariofili nel rio Gloria ok quindi a quasi 1300 km di distanza dagli Ianos e ci sta benissimo cioè ha dato origine a popolazioni riproduttive che stanno lì che causano anche un po' di danni perché sono specie aliena invasiva in Brasile però comunque si è adattato benissimo nonostante l'ambiente sia abbastanza diverso fatta questa premessa sull'habitat poi vedremo meglio un paio di biotopi vediamo un po' come si comporta questo pesce perché è qui un po' che si gioca il successo o l'insuccesso di allevamento perché io molte volte appunto vedo che questo pesciolino viene venduto in coppie maschia e femmina e dice tieni mettilo in un acquario è un po' un discorso semplicistico perché questo animale ha un comportamento veramente variabile e complesso e se non lo si rispetta in cattività il rischio è che ci siano lotte uccisioni stress e quant'altro quindi è importante capire bene la vita relazionale del ram ok allora il ram giovane quando è inferiore ai 2-3 cm ed è tutto grigino senza colori non è sessualmente maturo è gregaria quindi è un pesce relativamente gregario che sfrutta questa gregarietà per sfuggire ai predatori sfruttando l'effetto diluizione vale a dire sto all'interno di un gruppo se arriva l'airone che dà una beccata se siamo in 30 e ho un trentesimo di possibilità di essere beccato magari tocca a qualcun altro e io mi salvo ecco il ragionamento è un po' questo ok quindi è una strategia di sopravvivenza quando poi comincia a maturare quindi qui in basso vedete un accenno di colorazione il comportamento cambia drasticamente cioè il pesce entra nella fase territoriale e diventa sempre più territoriale via via che matura sessualmente e assume dei comportamenti tipici allora il maschio scusate la livrea dominante è quella lì che vedete sotto la scritta rossa quindi colori pieni spot ben evidenti una banda nera sopra l'occhio quando due esemplari si affrontano hanno questa posizione di sfida frontale si inclinano frontalmente e si confrontano prima a distanza poi se la cosa prosegue toccandosi fisicamente ma senza morsi cioè agganciano le mascelle e si spintonano al confine del territorio per vedere chi è più forte normalmente in natura quello più debole cambia colore diventa sottomesso vedete qui a sinistra la livrea di sottomissione grigia con 5-6 bande verticali più scure e scappa torna si allontana e il vincitore non è che lo insegue torna nel suo territorio la sfida è finita e gli animali hanno stabilito chi è il dominante e chi è il sottomesso e come si ripartiscono questi territori in natura allora qui vi ho rimesso la livrea di dominanza ok quindi l'iride rossa le bande nere gli spot neri ben marcati e ben definiti ok questa è la livrea di dominanza un esemplare territoriale dominante lo dovreste vedere di questo colore qui più o meno acceso a seconda del livello di eccitazione ma comunque ha una livrea ben definita questo studio è molto interessante perché fa vedere uno si potrebbe chiedere quanto è grande il territorio di un ram in natura qualcuno ci ha provato già negli anni 70 a fare questo esperimento mettendo 10 pesci in un acquario di 175 per 35 centimetri di base dopo qualche tempo si è visto che soltanto 4 pesci erano stati in grado di delimitare un territorio gli altri praticamente erano stati estromessi cioè si trovavano appena sotto il pelo dell'acqua e qui li vedete in 4 colori diversi ok le zone retinate sono le zone di sovrapposizione quindi dove i pesci possono eventualmente sconfinare l'uno sull'altro ma senza mai entrare proprio nel cuore del territorio dell'altro esemplare al confine si svolgono quelle dispute territoriali che vi ho fatto vedere prima chi è estromesso non può entrare cioè gli esemplari sottomessi non sono accettati all'interno di questo territorio quindi estrapolando un po' questo discorso possiamo dire che un pesce all'incirca dividendo la superficie di base per 4 occupa un quadrato ipotetico diciamo un'approssimazione di circa 40 per 40 centimetri dove ci sta da solo cioè qui non si parla di coppie vita di coppia cioè il ram non riproduttivo è un animale praticamente solitario sta nel suo territorio lì a difenderlo singolarmente scacciando i rivali e lo difende salendo verso la superficie solo per massimo 20 centimetri dal fondo quindi questa è un'altra testimonianza di quanto questo pesce è principalmente bentonico e qui secondo me questo quest'articolo è illuminante perché uno potrebbe cioè pensa subito a quante persone effettivamente tengono due ram in un acquario di prendendo ad esempio questi dati 80 centimetri per 40 centimetri molto spesso io vedendo i social come sentendo le persone parlare li tengono in molti meno litri ok comprano due ram a caso magari maschio e femmina e li mettono in un acquario di 50 litri 40 litri 55 litri hanno questi pesci la possibilità di delimitare due territori come lo schemino che vediamo qui e al massimo sfidarsi lungo il bordo oppure uno dei due diventa automaticamente iperdominante e nel limitato spazio stretto di un piccolo acquario insegue e ammazzola continuamente il sottomesso che poverino non sa più dove andare questa è una domanda molto importante perché sostanzialmente il ram secondo me non è un pesce da acquari troppo piccoli ok immaginatevi anche qui nel territorio poi cambio diapositiva la la ricchezza ambientale quindi ci saranno ostacoli visivi nascondigli barriere non è che i pesci si vedono costantemente 12 ore al giorno ci sono complessità ambientali molto importanti fatta questa premessa vediamo un attimo come si fa a riconoscere il maschio dalla femmina ok il maschio qui è a sinistra lo vediamo nel piano dei colori quindi in genere è leggermente più grande come taglia ha le pinne impari più ampie e anche le ventrali più ampie e può capitare che abbia la testa leggermente più massiccia e sicuramente ha il profilo ventrale piatto o concavo cioè qua sotto o è piatto o è leggermente concavo come quello della foto la femmina al contrario è mediamente più piccola con le pinne impari più meno sviluppate ha degli spot blu in mezzo allo spot nero laterale e ha spesso e volentieri questa macchia questa macchia rosa qui chiamata anche macchia gravibica di colore rosa fucsia ok che in realtà però non è sempre così sviluppata nella femmina non riproduttiva è quasi accennata quindi la riproduzione è molto bella è un pesce interessante perché non è tanto monogamo nel senso che vedremo dopo che è fedele per tutta la vita ma è monogamo nel senso che il maschio e la femmina collaborano per la cura e la difesa prima delle uova e poi degli avannotti le uova sono sempre deposte su substrati esposti principalmente substrati duri come pietre piatte foglie piatte molto dure eccetera ed entrambi si prendono cura delle uova e poi delle larve qui c'è il video 2 che prego Andrea di mandare in onda ok questo è un video fatto da un bravissimo fotografo italiano che è Emanuele Biggi che è liberamente disponibile su youtube da dove l'ho preso io e praticamente si vedono le fasi di deposizione ok questa è la femmina che sta deponendo le uova su un pezzo di legno sembra e questo è il maschio che subito dopo le va a fecondare ok e questo procedimento si ripete più volte fino a che la femmina non si è scaricata di tutte le uova che possono essere anche insomma parecchie chiaramente poi non tutte saranno fertili ma saranno proprio i genitori che si occuperanno di ventilare e poi di rimuovere le uova magari ammuffite o non fecondate mantenendo quindi il resto della covata sano e generalmente dandosi il cambio quindi queste operazioni vengono fatte magari dalla femmina dopo un po' di tempo subentra il maschio e così via in alternanza fino a quando non si sono schiuse le uova Andrea questa femmina non questo questo è il maschio ma la femmina che si vedeva prima ha il ventre veramente poco colorato infatti infatti ha il ventre poco colorato perché la macchia gravidica ci sono delle diapositive dopo non c'è sempre ed è solo un ben preciso segnale per una ben precisa cosa che vi farò vedere dopo quindi vi lascio un po' con la suspense per farvi poi vedere dopo di cosa sto parlando mentre qui le macchie gli spots si certo all'interno della macchia nera sono evidenti esatto anticipo scusami no no anticipo una cosa allora le macchie che hai detto tu adesso e il ventre più rotondo sono proprio caratteristiche sessuali secondarie la macchia gravidica è quella che si chiama un segnale onesto ok che serve solo a dare delle ben precise informazioni agli altri ram poi vedremo di che informazione si parla quindi durante la deposizione può anche andare via non serve più cioè non ha più alcuno scopo e poi vi farò vedere perché ti direi di mettere anche l'altro video tanto questo l'abbiamo già visto e insomma abbiamo capito come si svolge la deposizione ok quindi vado con il numero sì 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 ecco qui ora mi scuso perché questi sono non sono esemplari wild ma sono due esemplari diciamo di di selezione quindi magari non a tutti possono piacere ok sono anche abbinati a caso di due varietà diverse però è per farvi vedere anche questo è un video liberamente visionabile su youtube che a volte alcune coppie le pongono sul fondo non su oggetti solidi perché può capitare che il maschio soprattutto cominci a scavare delle buche nella sabbia di profondità variabile e lì poi la femmina vada a deporre invece su substrati duri c'è questa possibilità cioè sono due strategie alternative ci sono pesci che depongono preferibilmente su pietri o legni e altri che invece fanno buche per terra anche qui guarda mi ricollego a quello diceva Andrea prima non è che la femmina qui abbia una macchia tanto evidente anzi la si vede sul fianco ora questa è una variante gold quindi già di per sé è meno colorata però non è che abbia questo colore così intenso si vede appena appena sul fianco e poi vedremo perché torno alla presentazione ok quindi abbiamo visto le fasi della riproduzione ora aspettiamo un attimo che mi riparta la condivisione ok ci mette sempre un po' vediamo la slide riproduzione io vedo invece solo lo schermo nero ma non la slide successiva non so per quale motivo forse c'è un altro rallentamento ok ok ripartito scusate ogni tanto la connessione rallenta dicevo dopo qualche tempo che è dipendente dalla temperatura principalmente può essere 24 come 48 ore nascono i piccoli che inizialmente sono sul fondo quindi non nuotano liberamente perché devono assorbire il sacco vitellino dopodiché cominciano ad avere un nuoto libero ed è qui a questo punto che i genitori cominciano a trasportarli in giro per l'ambiente a nutrirsi sempre sorvegliandoli attentamente scacciando i nemici e rimettendo nel gruppo quegli avannotti troppo intraprendenti che possono allontanarsi sempre in modo biparentale quindi maschio e femmina alternandosi nel compito e qui c'è l'ultimo video della presentazione se lo vuoi mettere vediamo proprio come i genitori si curano degli avannotti durante il nuoto libero questo è un altro video sempre liberamente disponibile su youtube dove vediamo appunto che il maschio e la femmina si preoccupano di sorvegliare le uova che in questa prima sequenza sono ancora sul fondo nella fase di riassorbimento del sacco vitellino qui ci sono le uova a breve vedremo le larve sul fondo nella sequenza successiva eccole qui qui ancora non sono nel nuoto libero si trovano nella buchetta in attesa di aver consumato tutto il sacco vitellino quando poi comincia la fase del nuoto libero i genitori cominciano a comunicare con la loro prole mediante dei movimenti a scatti delle pinne ventrali ok se voi guardate a breve il filmato la femmina in questo caso è la femmina comincerà a muovere le pinne ventrali a scatti ed è proprio un segnale con cui la femmina comunica ai piccoli ecco lì lo vedete spostatevi fermatevi andate avanti andate indietro chiaramente i pesci non parlano e quindi parlano con il linguaggio del corpo ecco questi sono segnali visivi di stimolo alla alla cobata per spostarsi o per fermarsi e questo avverrà per tutta la fase di svezzamento cioè quando fino a quando i piccoli non si saranno completamente affrancati e non si renderanno indipendenti sempre con la collaborazione del maschio e della femmina qui il video va ancora avanti ma volendolo possiamo anche stoppare tanto è una ripetizione di questa sequenza più volte quindi questo è quello che che vediamo nel Andrea ti volevo chiedere nel frattempo che partono le slide è una cosa il comportamento degli scatti del movimento a scatti delle pinne ventrali io l'ho notato anche in altre specie durante la fase riproduttiva ad esempio con gli scalari a me è successo diverse volte ma io gli avevo dato un significato differente perché mi ero accorto che gli scalari in particolare la coppia che ho avuto di Manacapuru negli anni scorsi agitavano in questa maniera le pinne soprattutto quando vedevano qualcuno avvicinarsi alla alla vasca ed era e si scagliavano contro il vetro quindi io l'avevo interpretato più come un segnale che come un segnale rivolto agli avannotti un segnale di minaccia io credo che sia l'una e l'altra cosa contemporaneamente nel senso che in un momento di eccitazione dovuto alla presenza di un nemico come lo percepisce il genitore quello scatto è probabilmente dettato da minaccia ma contemporaneamente è anche un segnale per i piccoli che perlomeno in natura ora non so se poi in acquario questo comportamento gli rimane sempre però teoricamente di fronte a questo segnale di scatto si dovrebbero vedere i piccoli scendere sul fondo ok o comunque andare a nascondersi perché è come dire figlioli ci penso io voi andate a nascondervi questo qui lo mando via io ecco insomma fa parte proprio di questo repertorio comportamentale probabilmente comune a tanti altri membri della famiglia dei ciclidi è sicuramente non solo del ram che serve appunto per comunicare contemporaneamente sia alla prole che all'aggressore cioè al nemico da scacciare ecco insomma che penso sia questo motivo qui e ora le diapositive sono andate avanti perché dopo che abbiamo visto tutta questa storia bellissima della riproduzione la domanda amletica ma quanto durano queste coppie in natura perché questa domanda perché spesso appunto io spesso e volentieri sento dire i miei ciclidi hanno fatto i miei ram scusate hanno fatto due o tre deposizioni poi in maschio ha fatto fuori la femmina oppure non la tollera più oppure la insegue la durevolezza della coppia premetto che non è mai stata studiata in natura però monogamia non bisogna in questo tipo di pesci piccoli poco longevi secondo me considerarla come la monogamia della fedeltà assoluta che c'è ad esempio in animali che campano 50 anni come gli albatros gli albatros sono monogami per tutta la vita ma perché campando 50 anni per loro è più conveniente stare insieme tutta la vita piuttosto che tutti gli anni cercarsi un nuovo partner pesci dal ciclo vitale così breve come possono essere i cicli di microgeoferi che vivono pochi anni io credo che sicuramente per una stagione riproduttiva la coppia rimane unita tentando una o più riproduzioni ma non è escluso che se sopravvivono fino alla stagione riproduttiva successiva non è da escludere che ognuno dei due cambia partner ok perché in natura a differenza di quello che spesso noi secondo me sbagliando facciamo in acquario non vivono in una fase riproduttiva perenne cioè stanno insieme quei due tre mesi di stagione riproduttiva poi finita la riproduzione ognuno torna nel suo territorio e ci si rivede l'anno dopo ok non gliene frega nulla di continuare a stare insieme e in natura dico questo quindi io non credo che le coppie siano così tanto durevoli e tanti problemi che ci sono in cattività su queste coppie che scoppiano secondo me è proprio dovuto a questo ma lo vedremo meglio dopo nelle prossime slide ok appunto non vivono tanto sembra che vivano tre o quattro anni in cattività in natura secondo me se arrivano a un anno un anno e mezzo è già grassa ecco perché comunque con tutti i predatori e le condizioni proibitive che possono trovare il rischio c'è oh ecco volevo parlare un attimo della macchia gravidica perché appunto l'avevo accennata prima allora la macchia gravidica della femmina è scusa non vediamo le slide ah allora aspetta provvedo subito scusa forse non ho attivato lo sharing aspetta un attimo ok mi puoi dire se adesso si vedono si si vedono ok allora scusate vado veloce per riprendere il punto comunque vi anticipo vi dicevo che la macchia gravidica nella diapositiva che vedremo a breve è un segnale onesto ok come potete per farvi un esempio come la cresta del gallo o la coda del pavone in quel caso è in maschio in questo caso riguarda la femmina è un segnale onesto con cui la femmina comunica agli altri suoi conspecifici il suo livello di salute e il suo livello di dominanza e di disponibilità alla riproduzione ok vedete normalmente qui a sinistra se vedete l'immagine la femmina non ha la macchia gravidica specialmente se è allevata singolarmente anche in condizioni di riproduzione la comincia a manifestare quando ovviamente raggiunge la maturità sessuale e quando interagisce con i suoi conspecifici arrivando a intensificarla anche parecchio nelle dispute territoriali e anche quando si confronta con dei maschi perché è come dire guarda come sono bella sana e come mi alimento bene perché la macchia rosa è data dalla quantità di carotenoidi che c'ha nella dieta quindi un animale che mangia molto una dieta ricca è un animale forte è un animale robusto quindi produrrà molte uova e sarà un esemplare dominante quindi in questo studio recente perché è di quest'anno è del gennaio del 2020 si accenna l'ipotesi che la femmina utilizzi questa macchia non tanto al momento della deposizione ma prima quando si sta formando la coppia perché è il maschio in questa specie che sceglie la femmina non è come nel caso del gallo che è la femmina che sceglie il maschio in questo caso sembrerebbe invertito quindi è il maschio che sceglie la femmina con la macchia più bella perché gli sta dicendo guarda come sono brava potenzialmente per riprodurmi quindi quando noi abbiniamo due pesci a caso un maschio una femmina a caso non è detto che al maschio gli vada bene perché se dal suo punto di vista questa non ha tutti i colori al posto giusto invece che considerarla un buon partner magari la considera solo un invasore del suo territorio o comunque una femmina da mandare via nella speranza in acquario purtroppo vana che ne arrivi un'altra più bella più buona si direbbe noi cioè più interessante per riprodursi quindi anche quando noi abbiniamo le coppie facciamo attenzione a questi segnali che a noi magari non ci danno nessuna formazione ma per i pesci sono importantissimi ok e gli va via spesso gli va via al momento della deposizione perché a quel punto i giochi sono fatti cioè non c'è bisogno di essere tanto appariscenti la coppia è formata e stanno facendo un tentativo di riproduzione ormai si è sposata si può mettere i bigodini esatto cioè capito ha tirato remi in barca cioè non gliene importa più nulla in quel momento di fare tanto gli arzillini perché tanto la coppia è già stata fatta quindi non gliene frega più niente quindi avviandoci verso la fine vi volevo far vedere i biotopi ok per tirare le somme e capire anche meglio come tenere questi pesci al meglio in acquario questo è un vecchio reportage di Steck del dottor Steck è un esperto di Ciclidi che negli anni 90 scriveva anche su una rivista acquariofila che oggi non esiste più che è Aquarium Oggi che appunto pubblicò questo reportage su 4, 5 no sono 6 biotopi di raminezi in natura ok sono quasi tutti stati raccolti i dati in stagione secca aprile tranne questo che è di agosto in stagione piovosa come vedete i valori dell'acqua nella stagione secca sono caldissimi 30 30 31 33 gradi quindi acqua veramente molto calda il valore pH è acido perché il valore medio è 5 con punte basse di 4 e 6 la conducibilità è molto molto ridotta i valori cambiano un po' durante la stagione piovosa perché l'acqua è un po' più relativamente più fresca 27 gradi e mezzo la conducibilità si alza un pochino per via di quelle precipitazioni che portano nell'acqua del sedimento e il pH può raggiungere non sempre però può raggiungere dei livelli di neutralità quindi possiamo dire tra 5 e 7 ok in natura e acqua mediamente molto calda tra i 26 e i 33 gradi ok un pesce termofilo cioè un pesce di ambienti mediamente molto caldi ok e acqua acida effettivamente tranne che durante la stagione piovosa sempre steck qui vediamo proprio 3 pesci raccolti da lui durante quel viaggio e i rispettivi ambienti di morisciales sono 3 maschi questi ok lui nota che le deposizioni si svolgono tra marzo e aprile quindi alla fine della stagione secca ovvero non appena questi pesci sentono la pioggia quindi la temperatura che si abbassa e l'acqua che comincia a rinnovarsi iniziano a formarsi le coppie e a deporre quindi è un periodo abbastanza breve di circa 2-3 mesi durante il quale si riproducono dopodiché come dicevo prima chi si è visto si è visto probabilmente e se ne riparla l'anno dopo per chi ci sarà ecco perché probabilmente non vivono molto in natura e questi sono tre esempi vedete la colorazione è un po' variabile perché a seconda della popolazione la genetica è un po' diversa e quindi il fenotipo maschile può essere un pochino diverso quello nel mezzo non ha nemmeno lo spot nero ma ha uno spot addirittura azzurrognolo qua sul fianco qui se qualcuno volesse divertirsi a riprodurre un biotopo ci sono alcune delle piante presenti e elencate da stack tipo cabomba furcata le icone azzurea la maiaca la pistia l'imnobium queste due sono piante galleggianti la ludwigia il mintorriza che è una pianta che a me piace molto perché galleggia con queste radici spugnose l'ho vista pochissime volte in commercio forse mai però è veramente affascinante come come biologia e poi i ben noti no? Echinodorus eliantium e naias ok quindi insomma ci si può sbizzarrire la vegetazione lì è veramente tanta questi sono solo esempi in realtà le specie sono decine e decine di piante acquatiche e palustri sempre molto abbondanti quindi riparo visivo nascondiglio i pesci possono facilmente delimitare un territorio e via dicendo queste sono alcune specie proprio che vivono nello stesso ambiente dove vive il nostro ram due specie di apistogramma longsloi e loignei la pristella maxillaris alcune specie di pirulina questo pesce bellissimo che è pesce locarax weights mani insomma è fantastico cioè è un pesce bellissimo purtroppo poco allevato ma veramente veramente bello io lo ho avuto la fortuna di tenere una volta è veramente stupendo e il questo piccolo predatore che è il policentrus schomburchi che è un piccolo policentri di un mini pesce foglia di circa 5-6 cm che vive in mezzo alla vegetazione in acquario ok e poi si conclude questo viaggio nel ram allora il mercato ci offre veramente una quantità di varietà incredibili ok in alto ho messo il german blue ram cioè la forma ancestrale però oggi troviamo pinne a velo forme gold forme black forme tutte blu electric blue oppure electric blue gold face balloon che sembrano pesce rossi ballon quelli veramente poveretti anche abbastanza infisciati nel nuoto quindi abbastanza menomati purtroppo però ecco tutte queste varietà che sono molto belle esteticamente per noi ci devono però far porre una domanda cioè tra di loro questi pesci si intendono cioè io vi ho fatto vedere prima no la banda verticale nera l'occhio rosso gli spot laterali il cambio di colore libera di dominanza libera di sottomissione la macchia gravidica nella femmina e quello nero la macchia gravidica per esempio non ce l'ha perché è tutto melanico quindi il rosa non si vede più per dire e anche spesso quegli electric blue non hanno a livello femminile la pancia rosa quindi questi pesci tra loro riescono a completare tutto il rituale di formazione di una coppia e poi di comunicazione tra loro con gli avannotti per l'allevamento della prole e a volte sì a volte no perché molte volte alcune volte sì e tante altre volte no cioè la genetica di questi pesci a forza di selezionarli è stata molto cambiata generalmente in peggio e quindi non sempre riescono a portare le cure parentali a termine spesso la coppia scoppia prima perché magari il maschio diventa troppo aggressivo forse perché la femmina non è più in grado di cambiare colore per farlo contento oppure non hanno più l'istinto alle cure parentali perché la selezione troppo spinta nelle farm involontariamente in questo caso magari ha selezionato genotipi non buoni nell'allevamento della prole a volte succede succede anche in altri animali di allevamento come galline anche animali domestici quindi secondo me l'ideale è partire da un bel ram wild type cioè con la colorazione ancestrale che secondo me non ha niente da invidiare anzi forse pure più bello di queste forme di colore nuove che però a volte pongono dei problemi di comportamento e di riproduzione la vasca e il numero di pesci va bene tanti fanno partano da destra cioè comprano due pesci adulti a caso li buttano in un acquario e dice vediamo se si riproducono ecco penso che questo sia in modo peggiore per cominciare l'allevamento di questa specie perché prima di tutto abbinando i pesci a caso non sappiamo il maschio se accetterà la femmina per tutto il discorso che ho detto prima e poi se l'acquario non è sufficientemente grande e i due adulti non hanno modo di delimitare ognuno un territorio quello dominante tenderà sempre a rubare un pezzetto di territorio all'altro fino a quando l'altro sottomesso sarà praticamente picchiato nel tentativo estremo di estrometterlo dall'acquario quindi spesso può trasformarsi anche in una uccisione spesso del maschio nei confronti della femmina però a volte anche della femmina nei confronti di maschi non troppo dominanti quindi l'ideale secondo me è partire a prescindere da giovani o piccoli vaschi abbastanza grandi 80-90-100 litri cioè lunghi almeno 80-90 centimetri in modo tale che almeno due adulti possano delimitare un territorio e la cosa più sensata sarebbe partire da piccoli gregari 5-6 giovani di 2 centimetri insomma non ancora maturi che sono ancora in fase gregaria cresceranno nell'acquario grande via via che si destabiliranno le gerarchie togliamo gli esemplari in eccesso e ci teniamo una coppia che incrociando le dita sarà una coppia stabile perché si è formata in modo completamente naturale all'interno di un gruppo di giovani i valori ovviamente non è necessario che siano quelli naturali perché ora pH 4,5 è anche un parametro difficile da mantenere in cattività però ecco se riusciamo a mantenerci in un pH intorno a 6 e tenerli abbastanza al caldo ok magari sopra i 25 gradi i pesci di allevamento stanno comunque bene l'ideale sarebbe condizionare i nostri riproduttori a valori da stagione secca quelli della prima riga ok e stimolare la riproduzione con dei cambi dell'acqua in modo tale che la conducibilità scenda di botto e anche la temperatura scenda generalmente funziona cioè questo condizionamento di alcuni mesi di stagione secca nel momento in cui noi facciamo un cambiamento ambientale con dei cambi parziali dell'acqua i pesci cominciano a riprodursi io addirittura ho provato a sperimentare addirittura quasi nessun cambio parziale e ho visto che la coppia comunque si tollerava e poi vi farò vedere l'acquario e non ci sono stati problemi io ho avuto la sfortuna di beccare anche una coppia non buona nel senso che la femmina e il maschio nonostante tutti i rituali poi non arrivavano al dunque e quindi probabilmente era una coppia di farm quindi probabilmente aveva qualche cosa di strano a livello genetico però ecco il succo di questa slide è che non va bene tenerli sempre a valori di riproduzione cioè non esiste che un pesce stia 7, 8, 9, 10 mesi nei valori di riproduzione vale a dire quelli che sono continui cambi parziali e temperature da riproduzione perché quelli pensano di essere sempre nella stagione piovosa e la femmina si stressa tantissimo a produrre continuamente uova cioè bisognerebbe che ci si fossero delle fasi di calma in cui i produttori possono riprendersi per qualche mese e nutrirsi non essere continuamente stressati da tutto quello che è il comportamento riproduttivo quindi questo secondo me è molto importante non so se tutti lo fanno però ecco questa fase di pausa secondo me è veramente molto importante nell'allevamento amatoriale ricordatevi sempre la luce non intensa e tantissime barriere che siano anche barriere visive tra loro cioè non devono vedersi continuamente i pesci se la femmina vuole sfuggire al maschio ci devono essere barriere che permettano la formazione di almeno due territori quindi tanti rami tante piante tanti tronchi quello che volete però tante barriere questo è un esempio vabbè questo è un acquario che ho ancora ora non ci sono più i ram ci sono i di cross filamentosos ma il succo è lo stesso ok questo addirittura era con la gestione Othrac quindi con il fondo di torba era addirittura un esperimento estremo comunque qui i ram come vedete più che altro era per farvi vedere la complessità ambientale cioè il fitto di piante apparentemente disordinate in modo tale che i riproduttori possano anche stare a distanza magari uno qui e uno qua senza nemmeno mai vedersi e sono tutti contenti cioè non c'è stress non ci sono inseguimenti non ci sono lotte e quando noi proviamo la riproduzione è più facile che pesci calmi pesci tranquilli siano anche più propensi a riprodursi ecco insomma questo è un altro esempio di una vasca un po' diversa per un'altra specie che è il ram boliviano però comunque il succo è lo stesso che qui c'erano cinque giovani poi ridotti a una coppia e notate la quantità di ripari visivi altrimenti è una lotta continua con ferite perché ogni pesce cerca di scacciare dal suo territorio il rivale che vede continuamente quindi la complessità ambientale è molto importante non mettete i ram in acquari troppo spogli perché è il modo migliore per vederli subire uno dei due ferite o anche la morte il cibo l'abbiamo già visto è un pesce bentonico non è neanche molto competitivo per nutrirsi quindi è importante cibo che affondi subito che sia cibo vivo o cibo commerciale un alimento che affondi subito il vivo sicuramente è importante o il congelato anche per stimolare la riproduzione però va benissimo anche ricorrere a mangimi vegetali sempre anche a base vegetale poco e spesso includendo anche un po' di vegetali perché comunque quel 4% della dieta non è da sottovalutare e vedremo dopo perché scusa Andrea hai detto forse ti ha sfuggito hai detto a base vegetale l'alimentazione principale intendevi a base scusate hai fatto bene a correggermi base proteica però non sottovalutiamo l'integrazione vegetale perché quel 4% di dieta vegetale in natura che sembra una percentuale insignificante in realtà secondo me è molto importante per prevenire alcuni problemi che vedremo alla fine della presentazione quindi base proteica con cibo vivo sul gelato o mangime commerciale ma tenendo sempre a mente di dare almeno un paio di volte alla settimana del cibo vegetale di tipo fresco o commerciale io per quanto riguarda quello fresco mi sono divertito a fare vari esperimenti e ho visto che i vegetali ricchi di proteine come gli spinaci i vari tipi di cavolo i piselli e le zucchine sono graditi senza problemi li mangiano e poi ovviamente fanno delle feci verdi e piuttosto corpose quindi vuol dire che li assumono vi dirò che io ho provato anche a dargli il nocciolo sporco della pesca e spelluzzicano anche quello forse perché si formano microorganismi sopra o forse perché catturano quelle piccole fibre della frutta attaccata però ecco delle piccole integrazioni vegetali secondo me sono molto importanti in particolare che sia cibo commerciale o fresco abbondate di carotenoidi perché come vi dicevo qui ci ho messo un maschio ma la femmina più carotenoidi prende più è bella la sua macchia gravidica genetica permettendo quindi più è facile che al maschio piaccia e che non ci siano lotte all'interno dell'acquario va bene per quanto riguarda la riproduzione in acquario l'ideale sarebbe appunto partire dal gruppo di giovani anche perché altrimenti i risultati sono io ho preso qui a caso quattro esperienze prese da facebook di persone che in buona fede hanno abbinato dei pesci ma con risultati non perfetti per esempio vedete qui sotto addirittura ho una vasca da 80 litri che andrebbe benissimo con una coppia di ram gold il maschio insegue la femmina quindi vuol dire che non l'ha accettata ce ne ha messa subito un'altra e cosa succede a fare così il maschio va fuori di testa perché non ha più un solo rivale ma ben due da scacciare e chiaramente la femmina che c'è alla fine la femmina introdotta viene picchiata appena introdotta perché per il maschio ci sono due rivali da scacciare quindi state sempre attenti anche a questi giochi di cambio di coppia cioè togliete prima la femmina non accettata e mettete una femmina nuova altrimenti si rischia di fare un un disastro insomma un le femmine vengono proprio proprio picchiate e vedete e molto spesso succede sempre che il maschio di punto in bianco non accetti la femmina può succedere succede anche in natura in quel caso lì l'unica è o sperare che dopo un po' la riaccetti oppure cambiare femmina succede non tutti si vanno d'accordo tra di noi umani ecco succede anche nel mondo nel mondo dei pesci e per la riproduzione siccome è un pesce comunque facilmente stressabile sarebbe meglio non avere coinquilini troppo vivaci quindi non caracidi non altri ciclidi non pesci tipo guppi pescididi perché comunque essendo sempre in movimento molto voraci i riproduttori si stressano di più ed è più facile che per paura divorino le proprie uova e anche eventualmente i propri avannotti questa è l'ultima poi concludo per quanto riguarda le malattie allora le due principali malattie del RAM sono l'ictio ok e la malattia del buco ce ne avrebbero anche tante altre però ecco quelle più frequenti l'ictio è il famoso ictioftirius multifilis lo conosciamo tutti nel RAM è particolarmente frequente perché il RAM è un pesce termofilo quindi se noi lo alleviamo in acqua troppo fresca o facciamo dei cambi d'acqua con acqua troppo fredda vuol dire magari avere che ne so la vasca a 28 e fai un cambio con l'acqua a 15 gradi allora lui non è capace di tollerare questi sbalzi si indebolisce e l'ictio che è un patogeno opportunista praticamente ubiquitario in tutti gli acquari prende il sopravvento e può fare anche morire il pesce la malattia del buco invece è una malattia ancora peggio cioè ancora più complessa perché sono dovrebbero essere per lo meno dalle ricerche che ho fatto io quando ho lavorato nel settore è un protozo praticamente sempre presente nell'intestino di molte famiglie di pesce tra cui quella dei ciclidi ed è un commensale tutto sommato tollerato diventa virulento e molto pericoloso quando l'animale o è stressato o è allevato male quindi dieta scorretta valori scorretti dell'acqua e cosa succede i protozoi che stanno normalmente nell'intestino migrano dalla parietà intestinale in tutti gli organi interni l'addome dei pesci si rigonfia anche se l'animale nel mentre ha già smesso di mangiare e piano piano si formano delle screscenze sulla testa che degenerano in dei veri e propri fori da cui il nome malattia del buco e non è neanche facile curarla e molto probabilmente è favorita anche da una dieta sbilanciata quindi è per questo motivo che io ho precisato che la componente vegetale secondo me dovrebbe essere sempre presente non maggioritaria però sempre presente perché un regolare apporto di fibre come negli umani anche negli animali favorisce comunque la peristalsia intestinale la pulizia delle pareti intestinali e quindi il pesce è anche più resistente nei confronti di eventuali attacchi a livello intestinale e con questa sì ho finito quindi credo spero di essere stata anche nei tempi se un'ora e un quarto e se ci sono domande io sono a disposizione grazie Andrea grazie mille perché è stata una presentazione che almeno a me ha chiarito molte cose che non sapevo io li ho allevati diverse volte mai con successo riproduttivo al più riuscivo a avere le larve e poi però non riuscivo a portarli avanti ho avuto anche penso nel 2000 e 2002 dei rama di Maurizio Vendramini che penso che tu conosca sì sì conosco ma penso che sicuramente molti di noi scusa c'è qualcuno che allora se ci sono delle domande invito i partecipanti a manifestarsi in video e in audio per fare le domande io ne ho una posso aspetto Andrea allora senti visto che ultimamente ho a che fare con i cromidi e i lapini come hanno sentito anche nei cromidi e i lapini c'è questa famosa macchia rossa le femmine sono molto più belle che i maschi in genere cose di questo genere io ho notato questo però è anche leggendo pochi e spesso anche la macchia rossa oltre a essere un segnale onesto come ti ho ricordato proprio da storia della biologia serve anche abbastanza a quietare il maschio a quietare il maschio perché è questa macchia che viene durante i corteggiamenti o non solo è mostrata al maschio in maniera resistente io adesso non mi ricordo benissimo perché era mi rezi a fondo ormai nella mia pre-storia personale ma non ho mai visto grosse utilizzi in questo senso nel rami rezi della macchia rossa a parte della femmina nei confronti del maschio sai dire qualche cosa se dimmi qualche cosa tu su questa roba se hai notato i comportamenti di questo genere o altro ok scusa c'era stato un blocco e non avevo mi sentite sì 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 io ti sento almeno sì Andrea ti sentiamo sì c'è un blocco c'è un blocco totale anche l'immagine sì penso che Andrea si sia momentaneamente bloccato vediamo se è ancora in collegamento sì è in collegamento speriamo che si risolva velocemente il suo il suo problema vediamo se intanto potremo raccogliere qualche domanda nel frattempo che Andrea si riconnette guardiamo magari anche su Facebook qualcuno ha chiesto qualcosa sì non so se Francesco Simoncelli ci puoi pensare puoi pensare tu a vedere su su Facebook abbiamo una domanda di c'è un'esperienza di selezione genetica con i con i cosa ma l'ha capito scusa Francesco Davide Soardi ci chiede se ci sono esperienze di selezione genetica combinando i blu con i gold che dovrebbero essere buttini ed è possibile in questo modo ottenere soggetti a vini questo domanda particolare molto particolare io non so ne ho entro dare risposta spero che Andrea rientri quanto prima in in collegamento non so se Livio ha una competenza specifica assolutamente no no poi no perché le selezioni come dire a me personalmente non piacciono tanto e quindi mi autoescludo da questi studi o robe di questo genere scusate la mia incompetenza è questo ma c'è un problema proprio come dire caratteriale da questo punto di vista vedo che abbiamo una certa affinità in materia perché io stesso a me fa fa viene in mente una battuta per quella del film di Verdone che dicevano famolo strano invece no io direi non famolo strano famolo selvaggio che sicuramente è più divertente nel senso che tutto ciò che è più wild almeno per me ha un fascino particolare nel senso che è più più vicino alla natura così come come è stata come risultato dell'evoluzione naturale sì poi l'avevo già detto durante la mia chiacchierata non dobbiamo illuderci di avere in acquario pesci puri perché nel momento in cui introduciamo i pesci nei nostri acquari andiamo a modificarli però almeno io personalmente ho sempre cercato di avere delle forme più vicine perché come giustamente anche oggi Andrea ci ha ricordato questi pesci comunicano con i colori con i cambiamenti noi andiamo quindi a questo punto a cambiare tutti questi equilibri e a noi piacciono i comportamenti insomma diciamolo alcune osservazioni che potremmo così intanto fare in attesa che Andrea si ricolleghi gli ho mandato un messaggio su whatsapp speriamo che non sia dicendo che ci sta provando io avevo una curiosità volevo sapere le cure parentali quanto duravano perché mi sono sembrate molto diciamo attenti precise comunque i segnali delle pinne e volevo sapere appunto fino a quando venivano seguiti piccoli e poi piano piano lasciati liberi insomma senza più grandi attenzioni devo dire che oltre questo non non mi viene molto da chiedere perché è stata una chiacchierata veramente esaustiva e perfetta e devo fare proprio i complimenti quando tornerà in un video glielo devo proprio dire perché è veramente notevole stata insomma beh diciamo che tutte le nostre serate sono di alto livello questo qua ormai è stato evidente da quando restiamo ad aprile mi sembra che tutte le nostre serate sono state interessanti dove c'è sempre modo di imparare qualcosa di nuovo questo bisogna proprio dirlo secondo me bravi relatori tutti questo senz'altro anche l'altro l'ultima che ho visto quella della d'ancalia in effetti veramente particolare speriamo di continuare sì sì ma come dicevo prima Massimo non riusciremo a riprendere le riunioni in sede per problemi legati alla difficoltà di applicazione delle misure anti-covid però a questo punto rilascerò la parola Andrea sono tornato scusate mi era andato in crash la connessione e ho dovuto un attimo resettare la connessione allora rispondo a Livio perché la domanda l'avevo sentita e me la ricordo allora in altri in altri cicli di nani come il genere per Bicacromis la macchia viene usata anche dalla femmina per quietare il maschio si mette proprio di fianco facendogliela vedere il maschio tende a placare la sua aggressività in realtà nel ram è meno frequente questo comportamento ma secondo me in parte è anche un po' dovuto alla selezione che umana cioè che è stata fatta su questa specie perché a me per esempio è capitato sempre in quella vasca degli esperimenti che ho fatto vedere di mettere una volta nella coppia che già avevo altre due femmine giusto per studiare un attimo il comportamento ovviamente pronto a toglierle però per studiare il comportamento di tutti questi pesci insieme ed effettivamente in quell'occasione lì il maschio che era subito partito in quarta per per scacciare queste femmine si vedevano queste femmine inserite che provavano a fargli vedere questa macchia rosa che era diventata particolarmente intensa mettendosi di fianco perpendicolarmente a lui come per calmarlo ora lui non gliene fregava nulla ha continuato quindi poi le femmine l'ho tolte però penso che fosse proprio quello che diceva Livio cioè un abbozzo di comportamento di calmare il maschio mostrandogli questa macchia per fargli vedere che è una femmina pronta alla riproduzione anche se non è così evidente come si può vedere per esempio nei plebica cromis dove io l'ho visto fare proprio palesemente insomma più volte anche in modo evidente poi non so se diamo la priorità ai soggetti e ai c e chiedeva ripetila tu Massimo come? ripeti ripeti direttamente tu si 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 a fare un piccolo prima cosa e complimenti per la presentazione grazie senti no le chiedevo semplicemente le cure parentali quanto durano? per il comportamento con quell'atteggiamento delle pinnette insomma il gruppo di come comportarsi era molto interessante quanto durava e poi nell'allevamento in vasca che alimentazione tiravano ai piccolini giusto allora per quanto riguarda la durata in natura dovrebbe durare fino a quando i piccoli non hanno cambiato aspetto e sembrano già dei piccoli adulti in miniatura e quindi si sono resi quasi completamente indipendenti a quel punto lì i genitori cominciano a seguirli sempre meno loro si riuniranno si riuniscono in gruppi e poi si disperdono mantenendo quella vita gregaria per un tempo variabile in base alla loro crescita in natura questo in cattività purtroppo è una cosa molto più variabile perché io ho sentito anche di persone a cui i ram che stavano facendo delle cure parentali bellissime dall'oggi al domani hanno mangiato tutto ok premettendo che magari non ci siano stati stimoli esterni stressanti che hanno causato questo comportamento è probabile che sia anche un discorso di genetica modificata dalla nostra selezione perché in Asia è in Asia che riproducono praticamente la maggior parte dei pesci d'acquario d'acqua dolce in Asia l'unico scopo è avere i pesci più colorati possibile nel minor tempo possibile poi che facciano le cure parentali o meno a loro gliene frega è giusto perché loro cosa fanno levano i genitori tirano su i piccoli e appena sono di taglia vendibile li vendono non è che stanno tanto dietro all'etologia o a selezionare quelli più bravi nelle cure parentali quindi a noi ci arriva un po' di tutto ci arriva la ciofeca come il grande riproduttore quindi lì va un po' anche a fortuna per quanto riguarda invece il cibo allora i giovani piccoli che hanno appena riassorbiti il sacco vitellino si nutrono praticamente di detrito organico e piccolissimi invertebrati presenti nel detrito organico ma piccolissimi vuol dire invisibili anche ai nostri occhi ovviamente poi via via che sono passati alla fase di nuoto libero anche staccandosi di diversi centimetri dal fondo allora cominciano ad assumere anche organismi un po' più grossi come per esempio i primi naupi di artemia quelli appena schiusi insomma quindi plankton di taglia minuta però non minutissima e in quella fase lì mangiano praticamente solo proteine ecco non è come gli adulti che hanno un po' di detrito ecco diciamo che principalmente un giovane pesciolino in crescita ricerca quasi esclusivamente proteine quindi nel nostro caso organismi planktonici di taglia opportuna ecco sostanzialmente si alimentano di quello finché non hanno raggiunto la taglia insomma ad un centimetro o due ok grazie prego e abbiamo altre domande alcune vengono da facebook se non c'è qualcun altro che vuole fare io volevo fare una domanda vai Mauro buonasera sono Mauro salve complimenti per grazie quali sono i pesci bersaglio rassicuranti che possono essere messi in un acquario e mi interessava anche non solo per i ram ma anche per gli apistogramma calcatuoide se c'è una coppia io ok allora dipende tutto dallo spazio disponibile nel senso ovviamente più grande è la vasca più il pesce riesce a difendere meglio gli avannotti sembra un paradosso dici c'è più spazio però chiaramente questo è meglio perché il pesce riesce a scacciare più lontano gli eventuali nemici in acquario piccolo i possibili predatori sono sempre lì e quindi è più facile anche che ci siano episodi di predazione nel caso del ram sono pesci in genere si usano piccoli pesci bentonici vegetariani come gli otocinclus che comunque non sono predatori e sono molto pacifici e non sono nemmeno vulnerabili ad eventuali attacchi perché hanno il corpo piuttosto corazzato quindi in genere nel ram si usano quelli oppure si può provare con pesci che si trattengano principalmente subito sotto la superficie perché comunque la vita del ram e dei suoi avannotti non va più su di 20 cm in genere quindi se uno ha una colonna d'acqua di 60 cm e c'ha delle specie che stanno nei primi 10 cm d'acqua difficilmente si incontreranno per quanto riguarda i caracidi i caracidi che sono i pesci bersaglio di solito più usati anche per assicurare i cicli di nani adulti per gli adulti vanno bene un po' tutti quelli di piccola taglia perché comunque i cicli di nani non vengono attaccati da adulti da caracidi come neon cardinali e quant'altro per i piccoli invece possono rappresentare un pericolo soprattutto in vasche non troppo grosse perché sono comunque dei predatori e molto veloci quindi c'è il rischio che se la coppia non è particolarmente scattante nella difesa possano possano predargli ecco quindi mentre con quei piccoli pesci come gli otocincus non si va sul sicuro perché quelli non sono predatori non hanno la bocca in grado di aspirare avannotti si nutrono di detrito organico quindi non hanno nessun tipo di controindicazione i caracidi magari sono più belli in effetti da vedersi nella vasca però ecco a livello di comportamento predatorio sono più pericolosi perché effettivamente possono predare i giovani avannotti Andrea c'è Gerardo Colasante da Facebook che suggerisce le carnagella strigata non le ho mai provate quindi sì sono però pesci a cetta quindi rimanendo in superficie molto probabilmente non ci sono interazioni di nessun tipo ecco mentre so di persone che si sono trovate molto male con i pescilidi perché pur essendo anche quegli pesci teoricamente di superficie nella realtà poi vanno un po' dove gli pare e sono anche molto voraci e pedanti e quindi sono molto molto pallosi ecco anche per le cure parentali perché stressano molto anche gli produttori con quel nuoto attivo e molto fastidioso abbiamo qualche domanda anche da internet se non c'è nessun altro che vuole fare domande leggo leggo dalla chat Lorenzo mi scrive i Corridoras ecco i Corridoras secondo me assolutamente no per due motivi non ci sono beh un motivo biologico è che non ci sono nel biotopo del Ramirez questo è un discorso più una finezza e poi perché i Corridoras sono bentonici ma anche predatori cioè loro mangiano anche le uova soprattutto di notte perché comunque essendo pesci gatto crepuscolari e anche notturni proprio quando i genitori sono più distratti perché fa più buio possono predare le uova proprio per quello si consiglia di mettere e non l'avevo detto nella presentazione eventualmente una piccola luce lunare in modo tale che i genitori possano sorvegliare le uova ma io mi metto un Corridoras Eneus un Corridoras Stair Bike adulto del Ram non gliene frega nulla questo parte va a mangia e se ne va contento ecco perché difficilmente riescono a scacciare pesci gatto così robusti e comunque abbastanza aggressivi quindi io gli sconsiglio secondo me è meglio evitare Davide Isoardi da Facebook voleva sapere se c'erano state delle esperienze di selezione genetica combinando i blu con i gold per ottenere eventuali soggetti albini visto che i gold dovrebbero essere comunque in matrice bianca albina insomma avere una una matrice bianca allora metto le mani avanti non lo so ok non lo so per un semplice motivo non non mi interesso a livello personale e anche professionale di selezioni di questo tipo cioè io ho quasi sempre allevato pesci in forma naturale e non ho mai preso in considerazione selezioni ne ho mai fatto io tentativi di selezione quindi onestamente non lo so ecco non so rispondere alla domanda ecco va bene io non ho trovato in letteratura nessun documento che spieghi questo quindi in ricerca scientifica non è mai stato fatto poi se ci sono stati esperimenti acquariofili non lo so non mi sono mai informato ecco vedo posso chiedere una cosa Andrea ah sì scusa stavo cercando di leggere proprio la tua domanda vai sì perché finalmente ho settato meglio il microfono no volevo chiederti una cosa Andrea intanto grazie per la presentazione è stata molto esaustiva esauriente è bello chiedevo questo ho visto una parte che tu somministri anche una parte vegetale sì in che modo cioè come gestisci la parte vegetale prepari in che modo prepari che ne so gli spinaci li sommisti da crudi o per fai delle pappe sì è una cosa che mi interessa particolarmente ok allora io i vegetali ho provato anche a somministrarli crudi però ho notato che non li mangiano molto volentieri per il semplice motivo che rispetto alle alghe e alle piante acquatiche sono molto più duri e quindi non diciamo non scatenano la risposta di alimentazione generalmente io li sbollento pochi secondi pochi minuti nell'acqua in modo tale che vadano a fondo ma va bene anche cotti al vapore cioè sarebbe anche meglio perché si mantengono ancora di più i nutrienti l'importante è tenerceli quel tempo strettamente necessario affinché affondino una volta che affondano io li butto nell'acqua e sinceramente ce li lascio lì finché non spariscono da soli insomma non mangiano i pesci viene mangiato insomma dagli spazzini e in genere una volta buttati dopo pochi minuti cominciano a mangiarli perché appena assaggiano e sentono che è comunque un cibo morbido e ricco di proteine cominciano a alimentarsene senza problemi pesci appena comprati no perché vengono da mangimi già mangimi commerciali però se uno li tiene due o tre giorni senza mangiare niente e poi comincia a fornire quelli si abituano e dopo lo mangiano senza senza alcun problema sempre sbollentato io ho sempre sbollentato tutto tra nella frutta perché quella affonda da sola quindi la butto e magari quando vedo che non la mangiano più la tolgo perché la frutta contenendo molti zuccheri tendo un po' già a far crescere anche batteri nell'acqua l'acqua diventa opaca ai pesci non gli fa niente però non è bello da avvedersi quindi la tolgo un po' prima però ecco sempre tutto sbollentato non ci sono problemi grazie e poi un'ultima cosa se poi un giorno ci vorrai fare pure una mezza presentazione o qualcosa di simile sui di grosso sfilamentosus a me piacerebbe va bene li sto allevando adesso quindi volentieri sto raccogliendo un po' d'esperienze ora perché non li avevo mai avuti anzi no li avevo avuti alcuni anni fa in modo disastroso cioè feci un po' di bischierate io e quindi non andò molto bene l'allevamento questi stanno andando bene quindi volentieri va bene appoggio questa richiesta perché i di grosso sono una specie che i di filamentoso sono una specie che mi interessa tantissimo qui abbiamo una bufera di vento a Roma in questo momento di sbattere le finestre e dicevo e sarebbe veramente interessante io ce l'ho da 7-8 mesi e hanno un comportamento veramente notevole sono dei pesci fantastici i di grosso concordo perché mi piacciono tantissimo anche a me e poi comunque rispetto a tante altre specie mi sto trovando bene anche a livello di aggressività perché sono molto molto più rituali ritualizzanti di altre specie quindi nel senso stanno bene anche in gruppo senza problemi insomma sono proprio contento mi piacciono tanto anche a me allora Gerardo Colasante chiede da Facebook se riguardo agli ancestrali insomma ai selvatici se ci sono popolazioni che provengono da diverse location scrive ossia diversi luoghi e seria conoscenza i tratti distintivi per riconoscere le differenze nella livrea di queste popolazioni tra l'altro questa era una domanda che ti volevo fare anch'io perché non so se ci sei Andrea ti vediamo bloccato ecco sì sì vi sento no vi sento sì sì perché a me successe l'anno scorso ebbe l'opportunità di avere una decina di ram dichiarati selvatici sì li acquistai li tendi in vasca di quarantena e poi purtroppo morirono come ogni tanto mi capita con selvatici di importazione probabilmente non quarantenati e dall'importatore però quelle due tre settimane che mi vissero nella vasca io notai che avevano una colorazione completamente diversa dai soliti wild allora sì allora no la distribuzione in natura del ram in tutto il suo areale in realtà non è nemmeno conosciuta alla scienza nel senso si sanno quelle tre o quattro località tipo quelle descritte lì nell'articolo di stack perché qualche acquariofilo o dottore di ricerca è andato lì a fare delle ricerche ma in realtà uno studio approfondito su tutta l'ecologia della specie in natura non esiste cioè è molto usato nelle ricerche di laboratorio ma naturalmente lì usano ceppi di allevamento ma è molto poco studiato in natura cioè non ho trovato nessuna nessun reportage o descrizione per esempio del comportamento riproduttivo in natura sono tutte descrizioni di animali di acquario però prendendo spunto da altri come? scusa non ti risulta eventualmente Ivan Micolgi che so si conosce insomma per le sue esperienze sul campo ha fatto delle riprese molto interessanti in natura dei rami rezi anche le ho viste le riprese però non mi sembra che siano pesci perlomeno i filmati che ho visto io erano coppie ma coppie di passaggio ecco non è che erano coppie con piccoli o coppie in atteggiamento di deposizione quindi è molto poco studiato però vista l'estensione dell'areale che è veramente notevole io dopo scontato anzi dico sicuramente esistono differenti popolazioni con differenti colorazioni i tre pesci per esempio dell'articolo di Steck vengono da tre biotopi diversi e erano già abbastanza differenti tra loro quindi sicuramente se uno si divertisse ora in Venezuela non ci si può un momento più andare però se uno potesse andare in Venezuela e fare un tour degli Iianos sicuramente documenterebbe una grande estensione in quel modo ci sarà una variabilità enorme di fenotipi nel maschio nella femmina per esempio so che esistono maschi selvatici con quasi interamente la testa gialla cosa che non è sempre vera per gli esemplari di allevamento ce ne sono altri con la testa più scura sono tutte quelle piccole differenze sicuramente locali però che non sono ancora state descritte dalla scienza anche perché andare in Venezuela la loro è praticamente impossibile quindi chissà quando potremmo studiarli ecco non saprei c'è un'altra domanda da internet di Alessandro Crudo che chiede che dato che il maschio sceglie la femmina chiede se conviene spostare il maschio in acquario pensi in un altro acquario per evitare che territorializzi troppo l'ambiente e magari non rifiuti la femmina non capisco tanto la domanda della verità no non ho capito molto bene neanche io però allora forse il senso dice come conviene comportarsi per far formare più facilmente una coppia allora ok è una bella domanda nel senso allora in un acquario grande generalmente io in un acquario grande dico dai 100 litri in su ok anche se c'è un maschio solitario se uno inserisce una femmina di quelle dominanti insomma non la femminina più bruttina ci può essere il negozio ma una bella femmina con tutti i suoi caratteri a posto è probabile che venga accettata a livello territoriale cioè ognuno dei due pesci delimiterà il suo territorio e vivranno relativamente tranquilli poi a livello di riproduzione è un'incognita perché è come in altri tipi di animali sono loro che si scelgono noi possiamo provare ma non è dato per scontato nulla però ecco togliere rimettere togliere rimettere secondo me è comunque stressante e non risolutivo ecco alla fine se il maschio non accetta la femmina si toglie la femmina e magari si prova con un'altra femmina evitando e scegliendo sempre quelle più tipiche cioè più tipiche dal punto di vista della dominanza e della colorazione è un po' un gioco un gioco del come si dice un po' non ti rassegna però tipo è un po' un gioco di tentativi ecco noi dobbiamo tentare sicuramente partire da un gruppo di giovani aiuta perché lì hai 5 6 7 pesci insieme e anche per la legge della probabilità una coppia può formarsi ecco insomma sicuramente molto più facilmente che mettendo un maschio e una femmina a caso cioè questa cosa di vendere i raminezzi in coppia secondo me dal punto di vista dell'allevamento ottimale è sbagliatissima perché andrebbero venduti in gruppo cioè magari di taglia un po' più piccola ma venduti in gruppo non è semplice a volte trovarli sufficientemente no infatti 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 purtroppo purtroppo sì un'altra domanda che vedo dal web di Stefano Girardi e volevo sapere se una vasca da 70 litri ben piantumata con molte barriere visive e quindi i valori pH 6,5 K H3 temperatura 27 gradi conducibilità a 170 microsimense con una coppia giovane acquistati insieme inseriti da due settimane che si sono accettati e 10 trinogono stigma eteromorfa un Ancistrus maschio ci può stare o è troppo piccolo oppure i Conquilini non sono compatibili ok allora secondo me i Conquilini sono tutti da togliere va bene perché l'Ancistrus è un pesce bentonico casinista casinista all'ennesima potenza quindi scava si muove è un nivoro quindi non è da escludere che mangi anche uova eccetera e quindi sicuramente è da togliere ma io avrei dei dubbi anche sulle trigono stigma che poi sono le rasbore perché anche se non sono caracidi sono della stessa taglia e sono comunque piccoli predatori quindi in 70 litri che non è un acquario molto grande sarebbero tutti sempre in vista e quindi oltre a stressare molto i riproduttori le rasbore dal punto d'accanto loro sarebbero sempre indotte nella tentazione di predare questi avannotti che gli nuotano continuamente intorno quindi se ora Stefano si chiamava quello della domanda sì se Stefano mira la riproduzione io gli direi togli tutto e mette al massimo degli 8 c inclusivamente la coppia nella vasca lì come vasca di riproduzione ecco va bene grazie Andrea non vedo altre domande non so se qualcuno vuole sì leggo c'è un certo Giuseppe che io leggo potresti è andato via potresti ripetere poi è sparito però allora adesso lo leggo io potresti ripetere allora il numero giusto per avere un gruppo di ram la vasca adatta per allevarli allora ripeto numero giusto di giovani almeno 5-6 poi se uno ha la vasca grande e ne può mettere anche 10 meglio ancora naturalmente quindi di giovani quindi giovani vuol dire pesci di 2-3 cm massimo anche un po' meno 2-2,5 cm per gli adulti la regola che non è una regola poi è un ragionamento empirico è valutare la superficie della propria vasca e vedere se ciascun adulto introdotto già adulto ha una superficie di fondo di almeno 40x40 a pesce cosa vuol dire un acquario lungo 80 sono circa 80 litri così lungo 80 potrebbe dar luogo a due territori quindi due adulti se è un acquario lungo 120 cm sono tre territori e così via da aumentare poi in presenza di individui particolarmente tolleranti a volte possano stare anche in più animali però parliamo di ciclidi sono anche molto animali con una loro individualità quindi uno può provare non è detto che abbia successo però la vasca se è da 100 litri fittamente piantata o con tanti rami o con tanti legni con tanti nascondigli uno in 100 litri mette i suoi 5-6 giovani e quasi sicuramente ha una coppia ecco insomma è abbastanza abbastanza fattibile non scenderei sotto i 100 litri ecco il ramo in 30 litri come a volte vedo va bene per la coppia già pronta alla riproduzione che magari vuoi spostare lì per salvare i piccoli ma se metti due pesce a caso in 30 litri si ammazzano sostanzialmente è matematico si fanno fuori non si tollerano assolutamente colgo io un'altra ho uno spunto da alcune cose che ho letto e ha riportato Maurizio Vendramini perché sappiamo che anche lui è un grandissimo esperto di Vendrami Renzi che lui consiglia un fondo di sabbia molto fine per Iran perché questo consente una maggior pulizia della vasca impedendo ai sedimenti insomma alla sporcizia di penetrare all'interno dei sedimenti volevo appunto una tua conferma e anche sapere quella che è il punto critico della pulizia e dell'ambiente sano allora sicuramente la sabbia è il fondo più adatto sabbia fine perché prima di tutto permette all'animale di mettere in pratica quel comportamento di alimentazione che abbiamo visto e che sarebbe impossibile con un ghiaietto di 0,5 cm quindi sabbia fine sicuramente inoltre la sabbia fine favorisce ipoteticamente anche lo scavo del nido nel fondo da parte del maschio qualora decidessero di nidificare sul fondo quindi senza altro la sabbia è la scelta preferibile anche per la pulizia sicuramente anche se dal punto di vista della pulizia inteso come accumulo di sostanze organiche in decomposizione sì poi la pulizia intesa come senso estetico tipo in realtà loro non gliene frega nulla cioè se il fondo è ricoperto di detriti vegetali rametti rotti gli va benissimo ecco quindi quello è un nostro gusto estetico per la pulizia anzi meglio come tu ci sono dei micropredatori esatto gli organismi e quindi trovano sicuramente qualcosa quindi una vasca matura certo certo sicuramente la vasca con il detrito sul fondo va benissimo anche per i piccoli che devono alimentarsi di microorganismi nelle primissime fasi di vita certamente tenendo sempre d'occhio i valori chimico-fisici dell'acqua quindi aspirare quello che può causare aumento di nitriti di nitratice assolutamente questo sì ma io credo che magari se pensiamo quando penso che Maurizio visto che lo conosco bene lui abbia sempre l'occhio anche per l'acquariofilo medio che cerca di avere una vasca di questo genere allora lui penso che possa fare un attimo così la carica batterica perché noi magari che abbiamo vasche da tanti anni abbiamo un po' l'occhio per starci addosso quando andiamo a dire ma se il detrito fa niente cioè nelle mani proprio degli acquariofilo penso che non sia sempre facile avere una vasca e tenere la carica batterica bassa ma avere lo stesso detrito cioè bisogna avere delle masche mature e pensando che la vita media di una vasca oppure di un layout di una vasca in genere di pochi mesi ecco questo fa un attimino più paura credo che sia un discorso di questo genere sicuramente sicuramente sì ecco io magari lo do per scontato perché comunque magari anche io ho vasche da tanti anni le stesse quindi sono vasche veramente piene di roba insomma anche di microorganismi quindi magari io lo do per scontato questo poi sicuramente per chi non è ancora esperto il discorso del controllo della carica batterica e degli inquinanti è importantissimo ora io in effetti un po' presso dall'entusiasmo l'ho detto dandolo per scontato no tipo la vasca naturale con le foglie cioè io ci metto anche le foglie morte per esempio però giustamente bisogna sapere come e quando dosarle e come rimuovele certo insomma questo ovviamente si acquista è una capacità che si acquista con l'esperienza ecco insomma sicuramente abbiamo abbiamo diciamo appena accennato alla riproduzione e a me viene in mente una cosa perché è un comportamento che io ho trovato in altri geofaggini il fatto di cercare di scavare nella sabbia alcuni di questi geofaggini lo fanno per trovare un substrato duro per la deposizione questo potrebbe essere anche il comportamento dei ram quando scavano nel substrato sì penso di sì penso di sì perché a volte non è capitato a me però l'ho visto fare anche in altri acquari vedendo filmati scavano finché non trovano il vetro di fondo soprattutto in vasche con poco fondale e depongono lì quindi sicuramente sì anche perché pensiamo a dove vivono cioè in natura se noi andassimo a mettere un piede ne affondiamo di diversi centimetri nella melma e nel sedimento loro scavano anche per cercare in questa melma un substrato idoneo per la riproduzione perché il substrato duro dovrebbe essere la scelta proprio di elezione della specie a volte lo fanno anche nelle buche però ripeto è molto variabile e sicuramente anche per il motivo che hai detto te ora bene se c'è qualche altra domanda penso che possiamo andare a chiudere io anticipo una cosa ovviamente ringrazio Andrea della grazie a voi della interessantissima presentazione poi io farò grande tesoro soprattutto delle tante note bibliografiche che hai messo perché io sono poi curioso mi andrò a cercare queste quelle potete trovarle tranquillamente su google scholar quindi chi vuole può andarsene sono liberamente scaricabili quindi volete approfondire potete farlo senza problemi perfetto anticipo una cosa perché in una delle prossime serate che continuiamo durante questo periodo ancora fino a quando non saremo completamente liberi di rincontrarci senza troppi vincoli sarà 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 relatore anche Maurizio Vendramini e tra gli argomenti che tratterà e sarà una serata sulle riproduzioni parlerà anche della riproduzione dei rami rezi nello specifico quindi diciamo faccio un'unione un collegamento con quello che sarà una delle prossime date certo io colgo l'occasione per ringraziare di nuovo Andrea grazie grazie Andrea saluto grazie Andrea complimenti salutiamo tutti quanti i partecipanti e vi diamo appuntamento grazie Andrea alla prossima settimana ma vi avviso che ci saranno dei piccoli cambiamenti perché avremo diciamo ospiti vi avviseremo quindi salteremo un giovedì per spostarci alla domenica per alcune necessità di collegamenti in orari consoni con la località del nostro relatore quindi grazie a tutti arrivederci ciao grazie ciao grazie ciao ciao